Come nella Chiesa Primitiva il sangue dei martiri fu seme di nuove cristiani, così oggi il sangue di tanti martiri sia seme di unità fra i credenti. Con queste parole Papa Francesco ha colto in Vaticano i membri della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiesi Ortodosse Orientali. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha ricordato l'estremismo fondamentalista, sottolineando la propria avvicinanza alle Chiese che sono nel dolore, in modo particolare ai vescovi, sacerdoti, consacrati, ai fedeli, vittime di rapimenti crudeli. E ribadendo che la missione dei cristiani è offrire una testimonianza di unione in un mondo ferito e lacerato, sull'esempio dei tanti santi e martiri di cui è costellata la storia della Chiesa. Essi ci rivelano il cuore della nostra fede, che non consiste in un generico messaggio di pace e di riconciliazione, ma in Gesù stesso, crocifisso e risorto. Egli è la nostra pace e la nostra riconciliazione. Come discepoli suoi siamo chiamati a testimoniare ovunque, con fortezza cristiana, il suo amore umile, che riconcilia l'uomo di ogni tempo. Laddove violenza chiama violenza e violenza semina morte, la nostra risposta è il puro fermento del Vangelo, che, senza prestarsi alle logiche della forza, fa sorgere frutti di vita anche dalla terra arida e albe di speranza dopo le notti di terrore. Grazie. 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 Grazie.